Saziarsi del potere Che cos'è la corsa al potere? Commento È il bisogno di esperire per saturarsi, di vivere certe esperienze per saziarsi del potere. La sazietà si ottiene attraverso numerose incarnazioni. La corsa al potere è un passaggio che chiude uno stadio dell'evoluzione e ne apre uno più vasto.